musica 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 grazie guarda coso tu non stai bene eh va bene pande però ci serve tanta piroba e lo so ma ragazzi quanto tempo è passato che registrazziamo? non lo so e allora allora vedrete farmarmi altri 5 minuti allora vedrete blink però io devo farti una domanda ma tu perchè sei stupido? esatto e perchè? dimmi ma chi? ragazzi cominciamo a vedere per il transfer node per far direttamente tutto l'unico è molto divertente è che bisogna fare l'upgrade bisogna farmare perchè non abbiamo un esattamente benissimo allora io mi metterò qua a fare gravel bravo bravo se anche la passassi così facciamo qualcosa un po' tutto se ce la passi questi si passano le cose si passano di pieni di infezioni allora io vedo una tomba con servita nebbia che schifo schifo io il mio piccone lo chiamo dildone ragazzi e sentire frank che dice questo qua mi fotte i nomi frank ho un piccone per te come si chiama? dildone dildone ok basta potremmo fare anche il cobblestone generator multiplo volendo si ma non ha senso perchè poi dovremmo fare due transfer node è un casino ma ne basta uno di transfer node fa cobblestone all'infinito pande io non ci sono più mi urge domandarsi la cosa perchè c'è un'altra piattaforma lì sotto? aspetta in che senso pande? ma che grazie stai facendo? da dove tu sei andato? stanno andando a recuperare le tombe sono diventato un tomba rollo oddio blink il tomba rollo blink il tomba rollo e beh da soul neee io ho preso la gamba vai peppe che ci servono adesso ragazzi ci servono il farm il nerding ma non è vero non sono le ceste il problema si no vabbè si dobbiamo fare un po' di ceste ragazzi fate qualcuno mi faccia altra legna nooo 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 servono veramente tanti seed pande 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 eh possiamo fare una cosa possiamo fare una cosa ci mettiamo dicono mi aspettate un secondo che vuoi fare invece di fare tante ceste facciamo tanti barrel e ti servono le barrel e per i mortel per i che dopo questo io vado via ciao peppe nooo oddio l'ho capita ora le barrel e per i mortel stai tranquillo frank passa tutto qualcuno mi fa un martello a forma di rildone eh il martello ancora nooo no mi serve il martello perchè sono nel combat con generale aspetta te lo rinomino se vuoi ne abbiate lo lancio da sopra qua aspetta arrivo ma guarda che eccomi sei vivo che peccato quando ci sarà la mob farm io non mi muoverò più di la perchè voglio tutti i cappelli nooo ma cazzo non posso rinominare ti volevo rinominare il martello ti volevo rinominare il ti volevo rinominare il ma solo quelli della tinker puoi rinominare eh lo so e vabbè vediamo quanti materiali mi hanno ragazzi fate tanto ferro eh peppe perchè hai un po' di flint no perchè non stai setacciando la gravel no sto facendo la dust te la sto facendo io la gravel ma non ci serve la dust perchè fai più materiali ma non è vero no in questo momento non ti servono la gravel la gravel è quella che ci da più materiali comunque ci serve anche la reston no no a me mi serve la gravel e trovi tutto vabbè ho fatto per l'ultima volta la dust eh quanto ti costa? eh ma lo devi dare a me link dimmi quanta eventualmente flint ti serve? ma aspetta un secondo come avete rotto la cordia sto con voi la? bravo con il bottello con le mani ah uno voglio nebbia uno eh adesso vedo se me l'ha droppato perchè mi sembra di aver visto che mi droppava eh una cosa nera quindi o è carbone o è gravel o è il dito di frank ma non sentite sta puzza si c'è frank c'è bimbo minchia quindi ah c'è nebbia la ecco link grazie ti faccio felice io mi faccio il martello di dildo addirittura tre pezzi ti fai il dildo di pietra poi vediamo se ho droppato dei semi niente niente semi guaglio dobbiamo droppare dei semi beh guaglia dobbiamo droppare dei semi perchè ci sta dando bimbo minchia dove sei? tieni ah eh si erano dentro la cesta qua ma santo di quel bubu grazie no io non dico di cactus io dico di roba da mangiare li ho visti che c'erano i cattus ci stanno le carote ci stanno le carote ho piantato pure le patate comunque io è cresciuto del sede sono cresciuto del sede le carote le usiamo per altre cose avevo piantato carote e patate io ma sono già Frank per cosa usi le carote? spieghiamolo indovina nella serie chi partecipa? indovina blink che cosa fa blink con le carote? indovina niente non hai dato a saperlo che schifo che schifo che schifo blink no patate io devo venire a mestre cosa fai con le carote? nulla ma mai nella vita se gliene porti tipo 3 kg vedi che ti fai un upgrade assurdo e con le zucchine cosa ci fai? Frank 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 ho il terrore posso ricordarti che io ho una accetta e se premo shift e eh e tipo rompo la base della mobile phone non ci pensaremo è divertente va anche no è divertente bimbo micchia no un chicchetto è uno di finta faccio pure l'accetta perchè adesso ci serviranno comunque oh ma ne fanno di nombra pande pande tieni tieni pande siamo pieni di legno stiamo riempiendo sto riempiendo la farm guarda qua cazzo eh ho trovato la flint io pure guarda qua pande qua è da mo' che non serve più la flint guarda è lì assurdo non c'è un cazzo guarda che bimbo micchia è pieno di coso pande ragazzi tranquillo abbiamo 80 stack di legno io lo so ma io voglio voglio una minacetta per uccidere ma pande fa troppo casino cazzo ma che vuoi tu che vuoi eh senti 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 guarda mi minaccia basta video contro allora abbiamo due cose ragazzi ragazzi quelli a destra mettete i materiali quelli a sinistra drop eh dimmi mi date la conferma su che orario è le 3 e 5 ma no le di minuti di registrazione le 3 e 5 eh vabbè non capisce ma dove c'è sto l'orario perdonalo non capisce perdonalo è un po' stupido è nato un po' 46 diciamo allora intanto io vi faccio una cosa che servirà dopo ovvero un bel dildone si un bel dildone no no ah no non vuoi un dildone allora una cesta ragazzi a quanto siamo quanti minuti signor nebbia solo lei ha il timer una decina non sto registraziando quindi direi di no allora diciamo che ce ne andiamo a cagare e finiamo il video qui si perchè saranno tipo 10 anni che stiamo registrando infatti non è vero mi sta insultando però se non registro io non ve la prendete con me eh si invece è colpa tua si è colpa tua nebbia va bene eh l'hanno detto tutti ok ragazzi allora per questo video della Sky Factory è tutto ci vediamo venerdì perchè questo video uscirà mercoledì ci vediamo venerdì in descrizione trovate sempre il link a tutti e tre i canali si quindi quello di Lambiepeppe di Panda e di Frank passateci commentate però Zaccaria e compagnia bella no per piacere non lo fate no per piacere no per piacere non lo fate più piacere ma che cazzo non lo fate eh si si fategli male Blink se lo merita ditegli pure dildone no eh ragazzi e andate anche sotto al canale di Frank e ditegli dildone nooo così a manetta non ti faccio fare l'auto nooo che cosa ciao 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 ciao